Come capisco se il mio prezzo è troppo alto? Oggi parlo di questa tematica che è bellissima e ho ricevuto alcune domande a riguardo ed è molto interessante, soprattutto quando si propone nel mercato qualcosa che ancora non esiste. E da qui la domanda che si poneva alla persona che mi ha fatto, ovvero come faccio a capire se effettivamente sono fuori mercato perché magari è un prezzo troppo alto o se effettivamente è un prezzo congruo? Allora, in realtà la domanda di per sé è sbagliata, nel senso che indipendentemente da quello che propone, da servizio che offre, prodotto che offri, esistono nel 99% dei casi, ma direi al 100%, soluzioni alternative che già risolvono quella tipologia di problema, nel senso che tu vendi un qualcosa per soddisfare un bisogno che sia più sentito o meno. Quindi la domanda è le persone come risolvono al momento quel problema? E questo ci permette di identificare quello che possiamo definire come prezzo medio. Detto questo dobbiamo tenere a mente una cosa, ovvero che ogni persona attribuisce un valore diverso a un determinato risultato, per cui una persona può spendere 1000€ per la stessa cosa, per cui altre persone non ne spenderebbero 50€. Questo è assolutamente fondamentale. Warren Buffett fa un'affermazione molto bella in una sua citazione che dice, il prezzo è ciò che costa una cosa, il valore è ciò che la persona ne riceve. Cosa significa? Che se io devo fare una presentazione domani davanti a 1000 persone, ho un mal di collo che non riesco a girarlo e c'è solo un massaggiatore in grado di sistemarmelo in un attimo e quindi domani sarò in grado di tenere questa presentazione. Che valore ha per me riuscire a risolvere questo mal di collo? Migliaia di euro probabilmente. Al contrario ci sono persone che pur di non spendere magari 30€, 50€ per un massaggio stanno col mal di collo per settimane. Quindi è molto importante considerare questo. Quindi ciò significa che ci saranno persone disposte a spendere molto per il tuo prodotto e altre che saranno disposte a spendere molto meno. Inoltre tu mi scrivi, come capisco i prezzi della concorrenza se vendono un prodotto per il quale si può sapere il prezzo solo tramite preventivo? Grazie. In questo caso la risposta è molto semplice, ovvero gli si chiede un preventivo. Hai un amico magari che ha un'attività per la quale potrebbe effettivamente essere interessato al prodotto che vendono i tuoi concorrenti? Se sì, chiedigli gentilmente di fare una richiesta di preventivo e lo analizzi diciamo in maniera molto abbastanza semplice. Questo ti permetterà anche di vedere come lavorano, che tipo di preventivi offrono, eccetera. Però quando pensiamo a rapporto qualità prezzo dobbiamo concentrarci sul rapporto risultato prezzo. Questo è un metodo molto più semplice per riuscire a dare un valore, attribuire il valore a qualcosa. Perché in questo modo tu concentrerai le tue attenzioni su persone che danno tanto valore al tipo di soluzione che tu offri, il prodotto o servizio che offri. Di conseguenza persone che saranno disposte a spendere tanto per avere questa soluzione. Il fatto di essere unica di non avere concorrenti veri e propri in realtà è un punto di forza, non uno svantaggio, proprio perché le persone non potranno paragonarti. Quindi non possono dire cavolo tu costi mille euro, l'altro ne costa cento. Perché non hai diciamo concorrenti, non hai persone che fanno la stessa cosa. Per cui quando avete questo dubbio sul prezzo smettete di ragionare sul rapporto qualità prezzo ma ragionate sempre su valore prezzo. Ovvero quanto potrebbero essere disposte secondo voi le persone a spendere per ottenere il risultato che voi offrite. Ragionare in questo modo vi permette di arrivare diciamo a una conclusione in maniera molto molto più veloce e nella maggior parte dei casi succederanno queste due cose. Ovvero la prima, voi darete un prezzo troppo basso perché le persone, quelle veramente interessate, saranno disposte a spendere anche molto di più. Due, inizialmente farete in ogni caso fatica a vendere perché non avrete un marketing abbastanza diciamo adatto per stimolare queste persone a passare all'azione. E la conseguenza è che penserete cavolo ho chiesto troppo devo abbassare il prezzo. In realtà lo avete solo esposto male o perlomeno nella maggior parte dei dei casi delle volte è così. Con questo è tutto io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo ti faccio un esempio del mio corso business architect che per qualcuno può essere effettivamente molto costoso per altri è una sciocchezza. Dal mio punto di vista il risultato che le persone ottengono paragonato al costo che ripeto per qualcuno può essere importante è veramente ridicolo perché ciò che si apprende all'interno a livello proprio di mentalità imprenditoriale, di vedere un business in un certo modo, di capire dove intervenire in tutte le parti del tuo business, come metterci mano, ha un valore che ripeto per me è inestimabile. Per cui l'unica cosa che dovrei fare nel mio caso diciamo è far capire alle persone dei benefici che effettivamente potrebbero ottenere grazie a questo studio. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao! 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 Ciao!